Ehi, ciao a tutti amici di YouTube! Allora, l'altro giorno abbiamo parlato di Windows Insider, il programma nato dalla stessa Microsoft che consente principalmente di mandare delle valutazioni, delle segnalazioni di feedback per poter migliorare Windows 10, l'ultimo sistema operativo di casa Redmond. Ecco, in questo video andiamo a vedere le 25 funzionalità implementate dal 2015 fino ad ora, perché appunto Windows 10 è nato ben 5 anni fa e perciò andiamo a vedere quelle più interessanti dove ci focalizzeremo naturalmente maggiormente ed anche alcune che non sono da meno. Bene, vi lascio a queste 25 funzionalità. Emoji, caomoji e simboli. Quando gli utenti hanno comunicato a Microsoft la necessità di una maniera semplice di digitare l'emoji, l'azienda fondata da Bill Gates ha creato la scorciatoia Win più Punto. che apre il pannello Emoji ma bastandosi sui feedback successivi sono state introdotte anche le caomoji facce con espressioni create da lettere e caratteri e i simboli. File su richiesta in OneDrive funzionalità presente nella versione di OneDrive per Windows 8.1 ma rimossa nel passaggio a Windows 10. i file su richiesta di OneDrive consentono di visualizzare e scaricare solo se necessario tutti i file salvati sul proprio account. I file su richiesta non occupano spazio fisico sul disco del PC fino a quando non vengono aperti e scaricati. In impostazioni, sistema, archiviazione, configura, sensore memoria o eseguilo ora è anche disponibile una voce che permette di scegliere di trasformare automaticamente i file scaricati in file solo online al passare di un determinato numero di giorni. Modifica del colore della dimensione del puntatore del mouse In impostazioni, accessibilità, cursore, puntatore è possibile scegliere nuovi colori per il puntatore del mouse oltre a poterne modificare la dimensione. Impostazioni simili sono disponibili anche per il cursore di testo in maniera tale da rendere più riconoscibili e facilmente identificabili i diversi cursori. Potete trovare queste opzioni in impostazioni, accessibilità, cursore di testo. Prestazioni della GPU Grazie al feedback degli utenti ora l'utility di sistema, gestione e attività visualizza le prestazioni della GPU con tanto di temperatura di utilizzo. Sempre gli utenti hanno voluto una più facile identificazione della tipologia di disco che il PC utilizza. Così Microsoft ha introdotto anche questa funzionalità nel Task Manager di Windows 10. Raccolte in hub di feedback L'utile app hub di feedback è migliorata molto sin dal lancio di Windows 10. Grazie ai suggerimenti degli utenti sono arrivate funzionalità come le raccolte di feedback, le opzioni di ricerca di feedback simili e il supporto a più lingue. L'applicazione Memo, anche conosciuta con il nome Stalky Nudes, ha introdotto una modalità scura, una formatazione più semplice e una sincronizzazione con OneDrive, con il web e con Microsoft Launcher riguardo sempre le note. Tutte funzionalità richieste dagli utenti nel corso degli ultimi anni. Opzioni di gestione del volume. Gli utenti hanno suggerito a Microsoft anche piccoli miglioramenti nell'utilizzo quotidiano di Windows 10 come il redesign del fly-out del controllo volume. Ora, direttamente dal piccolo fly-out è possibile passare da un output audio a un altro, oltre a controllare il volume di tutte le fonti. Microsoft Edge Il feedback che Microsoft ha ricevuto per il suo nuovo browser, Edge lanciato con Windows 10, è stato così tanto che l'azienda è perfino arrivata a una scelta drastica e quasi impensabile per molti. Ridisegnarlo completamente basandosi su un nuovo motore di rendering, ovvero Chromium. Luce notturna Gli utenti hanno suggerito a Microsoft anche l'introduzione di un filtro di luce blu nativo in Windows 10. Si chiama luce notturna ed è accessibile in impostazioni, sistema, schermo, colore, luce notturna. È persino personalizzabile nell'intensità e nell'attivazione automatica. Assistente notifiche e impostazioni delle notifiche Con le nuove riviste impostazioni per le notifiche, per gli utenti è ancora più semplice controllare gli avvisi che si ricevono dalle app o dai siti. Cliccando con il tasto destro del mouse su una notifica è possibile disattivare tutte le notifiche per quell'app o rivedere le opzioni di notifica. Inoltre, l'assistente notifiche permette di impostare alcuni scenari comuni in cui mutare tutte le notifiche, per esempio quando si visualizza un video a schermo intero o quando si sta giocando. Temi con sfondi per il desktop Cambiare lo sfondo del PC è una delle prime cose da fare per personalizzarlo. Gli utenti hanno chiesto a Microsoft dei temi personalizzati. Al momento nel Microsoft Store sono disponibili ben oltre 300 temi con tanti altri aggiunti ogni settimana. Scrittura con scorrimento sulle lettere La scrittura con scorrimento swipe writing è stata una delle richieste più presentate dagli utenti. Questa funzionalità permette molto comodamente di digitare le parole sulla tastiera a schermo trascinando il dito da una lettera all'altra. Questa feature è sfruttabile con tutti i layout di tastiera quello esteso e quello a una mano. Barra di gioco Xbox migliorata Tra le tante funzionalità introdotte nella barra di gioco Xbox le seguenti sono state prese dai feedback degli utenti. Indicatore FPS Widget per gli obiettivi Indicatore del livello di batteria del controller Xbox Widget trasparenti Orologio per controllare rapidamente l'orario e supporta i temi chiaro e scuro di Windows 10 Windows Handbox è una funzionalità che consente all'utente di eseguire in un ambiente sicuro e che non può intaccare il sistema operativo qualsiasi applicazione. Gli utenti hanno chiesto a Microsoft una spinta in più per quanto riguarda la sicurezza e Windows Handbox è stata una delle risposte date dall'azienda sotto questo punto di vista. Dettare il testo e predizioni per le tastiere fisiche Grazie all'introduzione della voce dettata all'utente basta schiacciare la combinazione di tasti Win più H per avviare la dettatura in qualsiasi campo di testo. Inoltre in impostazioni dispositivi e digitazione è possibile scegliere se abilitare suggerimenti di testo anche se si digita su una tastiera fisica. Gesture per il touchpad Grazie alla richiesta di tantissimi utenti che hanno domandato una gesture per passare da un desktop virtuale all'altro ora è possibile scegliere quali gesti effettuare sul proprio touchpad e personalizzarli. Le opzioni sono accessibili in impostazioni dispositivi touchpad. Video editor nell'app foto Dopo la dismissione di Windows Live Movie Maker gli utenti hanno chiesto a gran voce un video editor pre-installato in Windows 10 Microsoft ha risposto introducendo un video editor molto completo nell'app foto è possibile aggiungere testo tagliare le clip cambiarne la velocità aggiungere musica di sottofondo sincronizzata a tempo filtri grafici ed effetti 3D Tema chiaro e tema scuro La presenza del tema chiaro recentemente rivisto e meglio applicato a tutto il sistema operativo e del tema scuro in Windows 10 è dovuta in parte anche agli utenti e al loro feedback quest'ultimo è stato particolarmente importante nell'introduzione del tema scuro anche in Esplora File Funzionalità dell'app il tuo telefono Quasi tutte le funzionalità presenti nell'app il tuo telefono su Windows 10 sono state inserite da Microsoft sulla base delle richieste degli utenti accesso facilitato alle chiamate alle notifiche delle app e ai messaggi sono tutte i feature attualmente presenti nell'app che gli utenti hanno chiesto Miglioramenti per gli screenshot l'esperienza di cattura della schermata è stata migliorata molto ora è possibile fare lo screenshot di una zona di schermo tramite la scorciatoia da tastiera Win più Shift più S iniziare una cattura cliccando una volta il tasto superiore della penna capacitativa o utilizzare il puzzante stamp o tramite un'azione rapida nell'Action Center Power Toys il famoso set di strumenti e utility per personalizzare l'esperienza d'uso di Windows Power Toys torna sul sistema operativo di Microsoft a distanza di anni proprio grazie alla richiesta degli utenti il feedback dei utenti Windows 10 ha portato alla realizzazione della nuova Windows Console RGB a 24 bit USL2 e il nuovo Windows Terminal programma Windows Insider per il business gli utenti più professionali che lavorano nell'IT hanno chiesto a Microsoft un modo per testare le build di anteprima sui dispositivi aziendali Microsoft ha risposto creando il programma Windows Insider per il business che consente la distribuzione delle build tramite Group Policy Intune o il Configuration Manager Aggiornamenti dei blocco note le richieste degli utenti si sono estese anche a strumenti utili del sistema operativo come il blocco note Microsoft ha introdotto nello storico programma diverse funzionalità di recente zoom del testo indicatori modificati supporto agli ending di Unix e ricerca con testo intorno Eravate a conoscenza di tutte queste funzionalità di Windows 10? Avete consigliato a Microsoft l'introduzione di una di queste? Fatemelo sapere nello spazio dedicato ai commenti e noi ci vediamo ad un prossimo video